Dopo 14 anni la vitrifrigoarena di Pesero non espiterà più la World Cup di ginnastica ritmica. Le farfalle azzurre in questa edizione 2023 voleranno verso Milano e con esse lascerà Pesero tutto il circuito internazionale che annualmente riportava in città il meglio planetario di questo sport. Non è arrivata ancora la rinuncia ufficiale ma è data ormai per assodata a causa di una serie di infelici concomitanze. Pesero rappresentava infatti la tappa italiana del circuito ridato e questa tappa nel 2023 è stata calendarizzata per luglio. Lo scorso anno invece fu collocata a inizio giugno e in precedenti edizioni pure ad aprile. Luglio però è anche il mese in cui all'arena metterà le tende tutta la macchina organizzativa del Rossini Opera Festival che non ha altre sistemazioni visto che il teatro Rossini per questo 2023 alza bandiera bianca per il prolungarsi dei suoi lavori e il vecchio palasport tarda ancora la sua transizione in auditorium della musica. Diventa dunque beffardo che l'evento culturale di più alto richiamo internazionale della città debba andare a cozzare con l'evento sportivo che per 14 anni ha acceso più riflettori internazionali su Pesero. Una rassegna che convogliava in città 35-40 nazionalità differenti ogni anno, circa 300.000 persone collegate televisivamente e diverse migliaia di presenze in città. Una perdita della manifestazione che inciderà per la mancata visibilità e anche per il mancato indotto ricettivo che era diventato un punto fermo dal 2009.